Buonasera e benvenuti alla prima lezione di italiano veloce. In questi piccoli video molto corti cercheremo di insegnarvi le parole più semplici in italiano che naturalmente verranno tradotti dall'inglese. Allora questo qui accanto a me è il mio piccolo figlio Luca di 5 mesi che al momento sta cercando di aggrappare uno dei suoi tanti giocattoli. Allora quello che farò è prenderò un oggetto, dirò la parola in inglese, il nome in inglese e poi lo tradurrò in italiano. Come vedete mio figlio è già annoiato dalla mia lezione in quanto questa è la seconda volta che produciamo questo video e lui naturalmente essendo un bambino di madrelingua inglese, infatti mia moglie è inglese, imparerà l'inglese molto velocemente. Quindi il primo oggetto è un telefono, telefono, è un telefono giocattolo, quindi toy, giocattolo, telefono, telefono, che io adesso passerò a Luca e molto probabilmente lui cercherà di mangiarlo come tantissimi bebè fanno a questa età. Allora il secondo oggetto è un libro, questo è il libro più, uno dei più, che piacciono più a Luca, è il libro dei primi cento animali, infatti dentro troviamo tantissimi animali come il leone, la zebra, la tigre eccetera eccetera, i pinguini, è vero? Pinguini, il cammello, è vero? Che a Luca piace tantissimo perché ci sono tanti colori, tantissimi colori in questo libro. Bye bye intanto il telefono ci ha salutato che in italiano dice ciao, come anche hello, bye bye, si può dire ciao, come anche hello si può dire ciao. In ultimo, ecco un fazzoletto in questo caso di carta, un fazzolettino di carta, tissue. Allora, se vi è piaciuta la prima lezione, vi preghiamo io e Luca di fare un subscribe, di sottoscrivere al nostro canale e ci vediamo alla prossima piccola e short e corta lezione, very short di italiano. Su, saluta Luca, ciao, 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 arrivederci e alla prossima.